buongiorno allora pollicione iscrizione campanellina condivisione cerchiamo di crescere ancora un po ragazzi ho visto che le ricariche sono proseguite durante la sera e chi non l'ha ricevuta ieri probabilmente potrebbe averla ricevuta stamattina andranno avanti anche stamattina e poi ritorneranno lunedì anche perché oltre alle ricariche ordinarie ci sono gli arretratti dell'assegno unico e paga spero abbiano anche pagato la quarta rata rem chi deve andare a ritirare la imposta con la domiciliazione ve l'ho detto la mia opinione è molto semplice troppe cose non stesso momento poi ovviamente senti i ministri italiani che parlano di digitalizzazione di e ti viene chiaramente la dilemma di che cacchio stai parlando perché questi qua sono i risultati il sistema non regge determinate cose è un dato di fatto in merito soprattutto allo svuotare la carta nicolai avete tempo fino al 31 dicembre 30 31 dicembre non fate venire l'ansia perché al 99 per cento a dicembre ci sarà l'anticipo perché non succede niente ecco ciò che mi preoccupa è la sono gli isi di gennaio ma di questo progetto me ne parlerò a partire da metà dicembre sperando che ci siano informazioni se le cose rimangono così ragazzi come fare l'ise dell'anno scorso solo che differenze dell'anno dell'anno scorso ci sono anche tutti gli isi di quelli che faranno manda per l'assegno unico permanente non eri dc che magari non l'avevano fatto ancora l'avano ancora fatto l'ise perché non gli serviva vabbè questo lo vedremo per il resto ragazzi se qualcuno ancora in ritardo me lo faccia sapere una cosa che mi chiesto una signora glielo dico qua perché ho risposto un attimo verità ragazzi per l'era di notte le tempistiche medie per la per una domanda sono di circa 40 giorni sopra i 40 giorni c'è un ritardo e se c'è un ritardo è meglio andare direttamente una sede inps non aspettare che chiamino loro che dicono qualcosa loro perché loro dicono un accidente quindi meglio andare direttamente altrimenti si perde solo del tempo e per finire ragazzi oggi veramente non c'era molto da dire io spero che veramente per tutti quanti la la vostra ricarica ma se a qualcuno manca e la prende in questo giorno me la faccia sapere il merito alla restrizione di ieri sul live ragazzi non ero ma non siete responsabili voi allora quando si lavora perché per loro comunque un'attività per noi può essere una cosa una passione ma per loro un'attività cioè per il fornitore del servizio ci sono delle limitazioni ovvio che alcune di queste limitazioni sembrano veramente fatte con il posteriore ma ve l'ho detto l'algoritmo che gestisce determinate cose all'intelligenza intuitiva più o meno di un tronco di pino e l'intelligenza generale di forrest gump sotto sotto bamba quindi fate un po voi a me queste cose non fanno né caldo infine una cosa io ho sentito da da varie fonti così fonti che ovviamente qui siamo a livello di gossip giornalistaio parlamentare che ci sia la possibilità anche per adesso è arrivata un'altra un'altra cosa nuova chiamata omicron tanto apertare in compagnia che se qualcuno avesse mandato qualche miliardo di di zac nel continente che la madre della specie umana forse non si sarebbe manco sviluppata ma lasciamo perdere ci sia il rischio per l'italia di un nuovo se tutti tutti a casa e vediamo come va allora io su determinate cose ho sempre lasciato libertà di espressione però qui bisogna dirla quando l'ha fatto conte quella specie di parassita intestinale situato nel colon che si chiama rinzi notate come ho descritto non ho detto esattamente quello ha detto che era inadatto inadeguato adesso che lo fa il governo dei migliori ma tutto bene solo che quando l'ha fatto conte non c'era lo zac adesso c'è lo zac e nonostante ci sia lo zac si deve ragionare ancora di ovviamente voi state a casa così potete fare il natale puttanate di questo tipo ovviamente non si pensa neanche per un secondo che un'ennesima cosa di questo tipo distruggerà l'economia italiana e ci vorranno altro che decenni per metterla in piedi ma e la pagheranno pagheranno le persone per 50 la pagheranno i nostri figli i vostri figli in questo caso mi tengo mai stretto a stare il mio paese ma fatemelo capire questo è veramente il governo dei migliori non lo so però veramente ancora una volta lo rivalisco citando i romani nel 40 nel 44 arrivederci al pochetta ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti